calma 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 che già sotto i video il video di ieri nei commenti già c'era qualcuno oddio ora la domanda è con chi cavoli giochiamo contro il Genoa all'esordio in campionato Taremis è fatto male oddio chi schieriamo contro il Genoa perdiamo novanta zero calma calma stiamo calmi anzi per citare allenatore più scarso dell'universo pure più di conte calma calma che non è successo niente allora anzitutto benvenuti monarchici assoluti per prima cosa iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live live che faremo stasera 19 e 15 interpisa live pre action radio cronaca in diretta la seguiamo insieme sapete quei miei commenti tecnici mi raccomando non mancate quindi iscrivetevi al canale fatelo per idea dell'algoritmo di youtube allora 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 Taremi che è successo a me di Taremi Taremi stop l'iraniano rischia un paio di settimane ai box l'obiettivo resta l'esordio contro il Genoa Taremi rischia di venire nel box un paio di settimane un periodo che potrebbe impedire di fare il suo esordio ufficiale contro il Genoa il prossimo 17 agosto che cos'è che ha avuto praticamente l'evoluzione del riserimento del recupero del risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra sarà più chiaro solo dalla prossima settimana quindi risentimento muscolare al bicipite femorale ok questo è quello che ha avuto Taremi ora io già lo so già lo so perché voi state pensando Lautaro rientrerà il nove il dieci agosto giusto una settimana prima difficilmente giocherà è stanchissimo è vero che ho fatto le vacanze ma la preparazione tutto eccetera quindi Lautaro difficilmente giocherà c'hai solo Duran ok e dopo c'è l'altra punta ecco sappiamo che noi giochiamo col tre cinque due quindi io già vi vedo oddio monarca dobbiamo dobbiamo giocare con Arnautovic con Correa addirittura potremmo vederli in campo tutte e due qualora ci fosse il cambio come in genere il nostro mister lo fa sempre il cambio almeno di una punta quindi potrebbe lo so iniziare Arnautovic e poi entra Correa e lo so a voi vi vi viene la pelle d'oca vi vengono i fantasmi vi vengono i fantasmi ma state tranquilli allora primo proprio la prima cosa da considerare probabilmente della mi potrebbe tornare potrebbe farcela perché come avete letto le condizioni sono da valutare ok quindi magari settimana prossima ci diranno tranquilli per il Genoa ci sarà tutto a posto secondo da qui al 17 agosto sono ancora due settimane ragazzi magari in queste due settimane si sblocca una cessione barra prestito di Correa e Arnautovic o uno l'altro o tutte e due miracolo del secolo e mi arriva una bella puntina fresca fresca da buttare subito dentro voi sapete che io non sono un super estimatore di Gudmussen però magari arriva lui magari arriva un altro e mi gioca subito e questa è l'altra opzione la terza opzione è che Lautaro faccia i straordinari tanto è vero che il capitano è tornato carico a Giano ha messo la stories Instagram dove dice manca poco con la Gressidra e lui ovviamente che indossa la nostra gloriosa maglia quindi potrebbe fare Lautaro i straordinari e poi e poi c'è la soluzione più grande di tutti che vi ho messo anche in copertina il demone di Piacenza il nostro mister Simone Inzachi perché perché il nostro grande mister è uno che ha imparato a barcamenarsi nelle difficoltà pensate solo a quando ci ha lasciato di punta in bianco Skriniar si è inventato Darmian bracetto destro con quella mossa lì arrivata in finale pensate a quando si è fatto male Brozovic e dopo successivamente è stato anche ceduto si è inventato Cialanolo reggista ha cambiato la squadra e ha cambiato la carriera a lui faville ora un demone che potrebbe fare la seguente mossa prima punta Turan dietro di lui Mkhitary e Nezelischi che è appena arrivato si può fare certo Inzachi potrebbe farlo certo anzi probabile probabile perché a mio avviso lui Lautaro non lo rischia se non rientra daremi io non lo so se lui si fida ancora di Arnauto dice Correa Erbo potrebbe fare questa super mossa 3 4 2 1 con Mkhitaryan e Zerischi a supporto di Turan Mkhitaryan e Zerischi sono entrambi centrocampisti che hanno i gol nei piedi e voi lo sapete perché Mkhitaryan è ovvio che da quando è arrivato all'Inter segni un po' meno ma è anche vero che fa un lavoro totalmente diverso da quello che ha sempre fatto in carriera cioè gioca 15 20 metri più indietro non sta più esterno alto o dietro la punta o trequartista chiamatelo come volete ma va a fare le corse all'indietro partendo da mezzala ma non è che Mkhitaryan si è scordato come si segna perché adesso vi faccio vedere signori miei i numeri di Mkhitaryan allora quando Mkhitaryan è stato alla Roma prima di venire da noi nove gol in campionato 13 gol e poi alla fine cinque sa segnare vedete da noi il rendimento è diminuito ma ripeto fa un altro lavoro ha fatto una stagione tre gol l'anno scorso ma sa segnare Mkhitaryan sa come si fa gol per non parlare di Mkhitaryan che anche lui no lui anzi già da mezzala ha sempre fatto dei numeri molto interessanti sui gol andiamo a vedere dal Napoli cinque quattro sei due otto sei tre tre e uno vedete qua soprattutto nelle due stagioni otto sei e uno che sa segnare e gioca mezzala quindi se tu questi qui li avanzi hanno dei gol nei piedi c'è anche frattesi volendo frattesi lo sappiamo l'anno scorso quanto ha fatto adesso controllo ma credo sei sette gol il ragazzo e giocava a spezzoni giocava gli ultimi venti minuti eppure sei gol ok fra cui per esempio quello che ci ha fatto godere da morire del cinque a uno nel derby quindi ragazzi di che cosa stiamo parlando abbiamo le soluzioni non abbiate paura ripeto Turan prima punta dietro Zerischi Mkhitaryan o Mkhitaryan frattesi o Mkhitaryan Zerischi a voglia frattesi Zerischi ne hai ne hai ne hai di soluzione ammesso e non concesso che comunque i tanti vituperati Arnautovic e Correa magari col Genoa possono pure bastare chi ce lo dice magari per mille motivi non riusciamo a sbolognarli e magari tentano in tutti i modi di mettere in difficoltà in Zaghi e magari riescono pure a fare delle ottime prestazioni perché alla fine non stiamo parlando di gente totalmente senza tecnica il problema che stiamo parlando di gente che non ha mai giocato in grandi club che Correa veniva dalla Lazio Arnautovic la squadra più forte che aveva giocato del Bologna e scusa l'Inter del Triplete dove era un ragazzo fece forse una presenza e poi soprattutto Arnautovic che è un giocatore molto usurato perché ha un'età però comunque come il Genoa ragazzi non è Real Madrid potrebbe anche bastare Turam e uno fra Correa e Arnautovic e la portiamo lo stesso a casa la partita quindi non agitatevi state tranquilli perché ripeto da quello che ho letto nei commenti del video di ieri ma anche da quello che leggo in giro oddio con chi giochiamo oddio adesso non c'è Tremia calma che Simone la ha giusta a lui state tranquilli in più ripeto magari arriva qualche altra bella punta da qui al 17 agosto pronta da mettere in campo quindi detto questo voglio sapere la vostra scrivetemela nei commenti ricordate di lasciare un bel like al video quindi pollicione pollicione like 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 mi raccomando e lo sapete a memoria iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio le live live che faremo stasera alle 19 e 15 mi raccomando interpisa radio cronaca in diretta con i miei commenti tecnici in base alle giocate stasera molto probabilmente vedremo tutti gli italiani in campo no già dall'inizio eccetera 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 quindi vi aspetto diciamo le 15 in live iscrivetevi al canale fate iscrivere i vostri amici quindi mandate i miei video pubblicate i miei video sulle vostre baghe facebook su instagram eccetera eccetera e portateli a iscriversi al canale dobbiamo crescere dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti il nostro solito saluto del latino vide te mox grazie a tutti grazie a tutti